Sì amiche buonasera con Meno Entusiasmo ma siamo sempre qua Meno Entusiasmo? Chi l'ha detto? Te lo dici? Io sono un po' Meno Entusiasmo Allora, sei? Alta Dovresti dire che sono basta? Niente, sono dietro di te Non è vero, tanto sono basta Allora, iniziamo questo video Poi dopo Matti ci lascerà nella presentazione della giacca che vi voglio far conoscere Come vi lascerà? In che senso? In che senso? Non si fa queste cose in diretta, dopo Facebook mi blocca il video Stavo pulendo le... Apriamo questo video facendo una considerazione nostra, un nostro pensiero Volevamo sapere anche che cosa ne pensate voi, che cosa ne pensano le persone in generale I nostri clienti, amici, insomma, tutte quelle persone che vedranno questo video Allora, noi siamo qui in negozio perché possiamo lavorare online E ancora lavoriamo sia all'estero che in Italia con le spedizioni Ok, insomma per quello, l'Italia insomma per quello che si può lavorare Giustamente uno sta a casa e dice vabbè posso comprare un articolo Non tutti Esatto, non fa, però lavoriamo con le spedizioni Il discorso è che, non so se avete sentito le ultime dichiarazioni di Conte Praticamente ha ventilato la possibilità di una chiusura ulteriore di un prolungamento Ossia della chiusura di attività e scuole per addirittura un altro mese E quindi stavamo pensando, stavamo valutando il futuro, stavamo immaginando Stavamo facendo le nostre considerazioni, ci mettiamo nei panni un po' di tutti Avendo partita IVA e avendo anche un mini contratto, cioè nel senso diverse cose Uno dice ok, ma chiude tutto così No? Conte così vuole chiudere tutto e non pensa ovviamente agli altri No, si era parlato di dare un sostegno di 500 euro, una tantum Beh, quello non è che si era parlato È scritto, perfetto, ok Ma io, noi ci chiedevamo Il discorso è per quale motivo uno si ritrova un po' in difficoltà Un po' Per quale motivo le partite IVA si ritrovano in difficoltà, l'attività si ritrova in difficoltà Perché se tutto si ferma, come si è fermato Potrebbe benissimo anche andare avanti così Se tutto si fermasse, ma tutto si fermasse Cioè il discorso è che non si è fermato nulla, ci siamo fermati solo noi attività Cioè si è fermato il lavoro, il fatto di poter lavorare Di incrementare, di incassare Esatto Ecco, e tutto il resto invece ancora va benissimo Perché tutto quello che è tasse, tutto quello che è pagamenti Le tasse le hanno... Sì, le hanno, vabbè, ok, hanno fatto qualcosa sulle tasse Sì, le tasse c'è stata una, diciamo, una moratoria Eh, perfetto, quello è stato un buon passo Perfetto, però perché non fare tutto, un bel quadro e dire Allora voi azienda avete questo da pagare, perfetto Il pagamento si stoppa Fermare tutti i tipi di pagamenti Cioè, perché così come... Ci sono le riba, ci sono gli assegni, uno come deve fare Esatto Cioè, non... Se tutto si fermasse, se si fermassero i pagamenti a tutti i livelli Tutto si fermerebbe, rimarrebbe cristallizzato E poi si potrebbe ripartire nel momento in cui tutto... Che tutto riprende, esatto Cioè, che tutto rinincia con la normalità Però, cioè, queste cose qui è una cosa essenziale secondo noi Cioè, poter prendere in considerazione Fanta scienza, stupidaggini Boh, forse, non lo so, questa è la nostra idea Questa è la nostra idea Ovviamente non penso di essere gli unici due Scusate il termine cretini ad aver partita IVA Perché comunque, purtroppo, tagliano le gambe Con questa partita IVA La maggior parte delle aziende Comunque già fanno difficoltà normalmente Ad andare avanti con partita IVA In questo caso, tiriamo giù le serrame tutti Però i pagamenti continuano ad andare avanti Cioè, stare fermi un mese, due mesi Adesso non lo so quanto sarà Speriamo, incrociamo le dita Che sarà il meno possibile Siamo zissimi, magari ci diamo una tappa nei piedi E ci portiamo a scolto Ma bene, però Cioè, cercare anche di agevolarci In qualche modo Anche un pochino più avanti Guardando anche un po' verso il futuro La lungimiranza non è mai stata proprio italiana Comunque Va bene, grazie amore Fateci sapere nei commenti che cosa pensate E adesso faremo il secondo video Che pubblicherò domani Per la giacca estiva Ve la faccio vedere in diretta un secondino Giacca estiva dell'azienda pre-export Completamente traforata E poi domani vi spiegherò le sue caratteristiche tecniche Sì, perché è caldo Sì, è caldo E che possiamo tutti andare giù in moto Allora, la prossima settimana quando arriva la neve Faremo vedere montoni Che alza maglia da mettere sotto Tutto di più A presto amici E fateci sapere cosa ne pensate Bye bye Grazie a tutti Ciao Ciao